Musica Cosa significa questo premio primo anno della sezione Finance? Cosa vuol dire essere premiati così al primo turno? È una bellissima soddisfazione, è una bella novità, anche il riconoscimento da parte del mercato della nostra eccellenza, delle novità che abbiamo portato nei fondi immobiliari nel 2018-19, è veramente una bella soddisfazione. Quanto è importante un premio di questo tipo nel settore immobiliare? Beh, non solo il settore immobiliare ma il settore del risparmio gestito, è una bella affermazione della voglia di fare prodotti nuovi, di trovare nuove strade per un prodotto tradizionale come quello dei fondi immobiliari e di lanciarsi in nuovi mercati come quello dei fondi di credito. Come sta andando la serata? Con chi è al tavolo? Sono al tavolo con gli amici di Carnelutti, è veramente una serata piacevole e divertente, è bello poter ritrovare sia i colleghi degli studi legali, sia i colleghi delle direzioni legali. Musica 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 Musica